Buongiorno, questa è Radio Plymouth. Potete ascoltarci sull'isola di Plymouth e sull'oceano attorno all'isola. Anche oggi è una splendida mattina qui a Plymouth, l'isola più bella di questo odioso e sudicio mondo. La temperatura è di 20 gradi e l'aria profuma come la dolcissima canna d'azzugno. È un giorno perfetto per uscire in barca sull'oceano e per catturare quel maledetto pesce. E questa era mamma tol panna. Che cazzone, ragazzi. Ecco a te, Cali. Fammi prendere quel pesce del cazzo, eh? Cali. Luke, hai capito di le lente, basta per oggi.